Ciao ragazzi, ci troviamo qua dove abbiamo fatto un casino per scavalcare, ci troviamo con Jacopo e disponiamo questa casa bellissima dove la mia mia scusa, che è questo pallone qua, adesso entreremo ragazzi, abbiamo già visto un'auto d'epoca, appena vediamo che passano meno macchine perché qua ci vedono benissimo da quel cancello lì, è una strada subiettrafficata e ragazzi adesso entreremo, però ci dobbiamo stare zitti, è bella. E partiamo, bella raga, siamo entrati, no raga, no, che figa, l'avevamo già intravista, c'è sta macchina d'epoca qua che proviamo ad aprire senza fare, porco, no vabbè, no vabbè raga, no vabbè, ok questa sembra molto, Eh no fra, eh allora un problema, comunque è molto vecchia raga, ci sono ancora le vecchie assicurazioni, no dai, che seria fra, che seria, metti qua, riprendi qua, operazione San Luigi Gonzaga, orazione vabbè, Vabbè, non è, lo lasciamo qua, insieme alla macchina e c'è l'assicurazione. Non c'è mai un'altra cosa, appunto, oh raga qua c'è un'altra cosa che dovrebbe essere una cisterna, non lo so, comunque è proprio una casa d'epoca. Fra, fra ma è attivo, è attivo, guarda, se non riusciamo ad entrare però, come facciamo? Che raga, a parte che abbiamo visto ora, e adesso proveremo ad entrare perché non stiamo trovando, l'hai chiuso, e raga siamo entrati di là, abbiamo aperto qua, e abbiamo trovato l'entrata, però qua, sono stanze vuote. Qua, no fra, questa è, questa è piena di, qua ci sono le scale fra, hanno chiuso proprio quella con le scale, quei bastardi, e fra, vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti, ok raga, il bello è che siamo proprio scemi, Sì, siamo proprio scemi perché siamo andati qua senza, senza torcia con questa misera torcia, siamo dei, dei scemi proprio raga, che bastardi, ma che bastardi, soprattutto che hanno, no raga, però, qua ti vengono gli attacchi di panico, fra, no fra, Eh, sono le cose per, ok, fra, qua, no fra, ci sono, ci sono, ci sono, ok fra, vai entriamo qua, oh fra, però non devi tirare, no, no raga, no vabbè, Vai fra, fai con la torcia qua, no, che roba, no raga, no raga, no raga, no raga, no dai, no no gang, gang bro, bro gang, raga ma qua ci hanno provato a fare dei lavori perché vediamo qua dei chiodi delle cose quindi ci vogliamo anche sbrigare eccole raga quella è entrata nell'entrata principale adesso qua è pieno di altre robe no fra che seria da un bel po fra da un bel po guarda qua qua hanno provato a fare cosa l'hanno provato a ristrutturare vabbè fra e la c'è l'entrata principale saliamo di qua attento fra non far cadere nulla perché noni non crolla vabbè noi intanto ci proviamo raga io mi spavento più nel caso ci sgamino poi fra del resto poi prima che stiamo so no fra guarda questa è tipo la maschera antigas tipo però vai fra prova ad aprire no che bastardi hanno chiuso tutto che bastardi no ma no dai che schifo che fate schifo proprietario di sta casa se guardi sto video fai schifo dai no fra qua c'è l'altra parte di casa guarda c'è un'altra parte fra no che mannaggia che roba vediamo qua c'è senza una finestra che qua c'è c'è la finestra c'è la camera d'aletto si fra adesso non è che c'era no questa è la parte più grossa fra più grande no no fra si fra ce ne sono ce ne sono si vabbè si si tranquillo allora adesso scendiamo e e vediamo quella parte che non abbiamo visto raga ma io mi vorrei mostrare tipo ste parti che è l'aria fra ma io volevo vedere troppo il tetto dai si che vuoi fare sul tetto eh da dove fra vorrai c'è il camion eh lo so è come questa casa da ristrutturare bellissima eh fra lo so però fra abbandonata fa fa una paura qui fra senza torce che bastardi fra vediamo qua vediamo qua soprattutto allora meglio questo è il tessitore questa questa fra allora c'è poco qua è vuoto tessitore tranne queste cose riprendi qua fra è pesticida insetticida anzi che cazzo c'era qua una carica di 101 anni si eh no raga qua hanno levato tutto no fra c'è ancora vedi che cos'è vabbè vabbè non ci troviamo una testa no raga se ci trovo ti conserva mente no non c'è nulla no non c'è nulla fra che schifo dai e poi andiamo di qua aspetta non lasciarmi sono vabbè un frattino ok qua non c'è niente è vero raga qua e stra pieno di crepe adesso vediamo qua ma ci possiamo andare no eh si fra mi sa com 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 oddio raga abbiamo che cosa c'è oddio fra che mi son preso e sono le targhe vecchie non c'è scritto vediamo qua che c'è ma questa è la finestra della sala che era chiusa ok raga la sopra peccato che comunque ci sono anche crepe importanti però fra minchia fra comunque questa cosa è la più bella di boschi alberetti che figale il porticato ok questo è il porticato molto però fra qua qua fra c'era buona palla si è vero e si fra ci sono ancora i limoni fra però guarda ci sono i tubi dell'irrigazione e non sono abbastanza recenti vediamo qua che c'è e fra allora fra vediamo di andarcene che di là siamo già abbiamo già visto quella là sopra però fra noi dobbiamo cercare di andare sul tetto è quello che voglio vedere troppo si dare quelle scale però fra ovviamente stando attenti perché fra qua se ci sgama fra ho rischiato di morire e vabbè fra è la ragione fra non posso e fra allora andiamo no no sposta voglio vedere che cosa che cosa no fra hai visto c'è l'acqua c'è l'acqua si vede l'acqua si vede l'acqua ok raga vediamo un attimo qua e il solito quella cosa dove il magazzino ma vediamo si fra si apre fra sta bloccato no non si tratta di fare forte è il massimo usi una lucertola volante no ah no non è vero no fra che ridi dai no io ero tutto preparato che ci raga ora la parte più pericolosa è vera e fra lo so non c'è nulla fra fra ci vedono subito no fra qua sta chiuso proprio fra io ho paura di cadere fra scendiamo scendiamo fra se noi riuscivamo a salire là riuscivamo ad entrare in quelle stanze là che erano chiuse al piano di sopra peccato che la sta chiusa raga sti bastardi schifosi hanno chiuso tutto però da qui c'è comunque qua dentro non c'è molta roba si è vero quella che dobbiamo esplorare l'abbiamo esplorata abbiamo capito che questa è una casa più o meno ogni 80 si vede pure dalla forma e dalla macchina soprattutto la macchina 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 la macchina